ciao a tutti siamo venerdì 2 giugno e siamo niente più di meno che rimini wellness adesso andrò a degustare questo prodotto della pro app lime e zenzero 20 grandi di proteine allora andiamo appunto a degustare questa nuova roba il lime e zenzero però sembra parecchio zucchero 20 per cento di frutta un po' poco però già cosmetchiamo rispetto all'importante introito proteico di 20 grammi 250 millilitri molto buono, 2 euro, 3 euro, 1 euro, dai tutto sommato approvatissimo